Un attacco suicida contro una moschea sciita di Kabul in Afghanistan ha provocato almeno 28 morti e oltre 40 feriti, fra cui anche donne e bambini. Il kamikaze avrebbe innescato il proprio ordigno sul marciapiede accanto al luogo di culto. È la terza volta in pochi mesi che in Afghanistan vengono presi di mira gli sciiti. I precedenti attentati erano stati rivendicati dall'ISIL.